Vittorio Spano, oggi una partita quasi perfetta per la Torres, davvero in tutte le parti, anche in difesa dove tu spesso ti sei proposto anche in posizione offensiva è stata una partita da giocare proprio così perché sapevamo che ci lasciavano molti spazi e grazie a noi propri difensori dove i terzini ci siamo inseriti molto bene siamo riusciti ad allargare la squadra e a fare molto bene Tu hai proprio questa predisposizione ad andare avanti, ti piace andare magari sul fondo, crossare ti senti anche questa responsabilità di alimentare l'azione d'attacco? Sì, ma sento perché ho anche nelle mie qualità, la corsa è la mia base quindi la sfrutto più possibile Oggi diciamo pochi pensieri in difesa, i primi dieci minuti forse il Valedori aveva dato qualche pensiero Sì, avevano un attaccante che magari dava fastidio tra le linee però dopo abbiamo gestito la situazione e siamo andati meglio Come va? Due vittorie consecutive sicuramente danno morale Danno molto morale, ora abbiamo il vento in poppa, dobbiamo sfruttarlo il più possibile di andare in ogni campo e vincere Grazie, avete lo spano Grazie mille